Il sindaco di Torrenova, Salvatore Castrovinci, sta programmando una riunione per la prossima settimana per affrontare le problematiche degli ASU. L'incontro è stato organizzato nella sala comunale di Piazza Autonomia e si è solo in attesa di sapere quando saranno disponibili parlamentari regionali e nazionali. Grazie anche all'interlocuzione con l'assessore regionale e le autonomie locali, Bernadette Grasso, saranno invitati anche sindaci e sindacati per avviare un confronto costruttivo sulla situazione degli ASU. È una situazione che dobbiamo cercare di risolvere insieme a un confronto costruttivo con il governo regionale che appunto finora ha dimostrato di essere sempre concreto e risolutivo sulla situazione dei precari. Ritengo che sia doveroso creare un percorso virtuoso per questi ragazzi, che ormai non sono più ragazzi, che sono fondamentali nella vita amministrativa del comune. Senta, secondo lei è facile avviare un percorso di stabilizzazione per questi lavoratori oppure sarà abbastanza tortuoso come l'è stato per i contrattisti? Sicuramente non sarà facile, però dall'altro lato sono convinto che il governo regionale e tutti gli enti preposti faranno di tutto per raggiungere un obiettivo che ritengo ormai indispensabile. È stata tracciata una linea importante sui precari grazie al lavoro dell'assessore Grasso e penso che il governo si impegnerà tantissimo anche per tracciare la stessa linea per quanto riguarda gli ASU. So che c'è già un disegno di legge che alcuni parlamentari hanno depositato nelle commissioni, ma è intenzione del governo affrontare ora la questione ASU perché comunque il precariato riguarda anche gli ASU e devono essere stabilizzati. Si vedrà come. Dobbiamo anche considerare che la stabilizzazione, qualsiasi norma di stabilizzazione deve essere poi applicata dai comuni che a loro volta devono avere anche le condizioni finanziarie e di finanza locale. Quindi chiudiamo questa pagina e credo che l'obiettivo sarà quello di risolvere anche la questione della stabilizzazione degli ASU.